Per domani sveglia alle 10 precise con un cappuccino e due brioche. Va bene. Ah, è il giornale del mattino. Mi raccomando. Ci si vede, raccatta cacca. Tu conosci ma? Era nascosto nel tuo vagone. Un passaggio che mi ha costato 2000 dollari. Ma perché ti disperi tanto? Io devo me ammazzare. Il serifo ha levato me, onore. E magari prima abbiamo messo di sposarti, eh? E tu non scarsare! Io devo me ammazzare, ma mi hanno levato la spada. Ah, non te la prendere. Ci sono tanti modi per morire. Ti puoi piccare e sparare. Oppure guarda, se con una mano ti chiudi il naso. Trattieni il respiro, ti metti un dito nel sederino, mori soffocato. Ti metti tu un dito sederino! Io mi devo ammazzare come samurai! Con la spada! Perché tu saresti un samurai? Beh, io veramente volevo fare scuola di samurai a Tokyo. Ma non mi lasciare entrare perché Sakura non è giapponese puro. Io ho figlio di americano e di giapposotta. Che significa giapposotta? Giapponese mignotta. Vabbè, se è per questo, anche mia madre era una svizzerana.